Grazie Presidente. Sono state istituite delle zone cosiddette protette a Gaza, dove ci sono i rifugiati e le tendopoli. Sapete nelle ultime 48 ore quante volte sono state violate quelle zone protette? 60. Alla faccia delle zone protette. Con bombe anche di 2 tonnellate. Questo sta accadendo a Gaza. Qualche giorno fa sono morte 45 persone in una tendopoli. Stanotte altre 14. La contabilità è arrivata a quasi 36.000 morti. Una delle cose più insopportabili che però noi stiamo vedendo nel nostro occidente e anche nella nostra cara Italia è la doppia faccia di Ministri e della Presidente del Consiglio che da una parte dichiara e dice no, io sono favorevole alla logica dei due popoli e due Stati, però poi dopo quando c'è da votare all'ONU per riconoscimento dello Stato della Palestina si astiene. però poi dopo quando andiamo a vedere dalle dogane e andiamo alla voce esportazioni bombe, granate, missili e altre munizioni vediamo che dal dicembre 2023 al gennaio 2024 dall'Italia sono partite due milioni di euro di materiale verso Israele. Due milioni di euro di materiale, bombe, granate, missili e altre munizioni. E c'era stato detto che no, assolutamente, noi non si commerciava. C'è stato addirittura detto che quelle armi non vengono usate contro i civili. Ma dove le devi mettere le bombe, le granate e le munizioni e missili? E questo sta facendo il Governo italiano. Allora noi abbiamo presentato in settimana una mozione per il riconoscimento dello Stato della Palestina e chiediamo che il Governo sia in aula e anche la Presidente del Consiglio perché si prenda una volta nella vita una responsabilità. perché è troppo facile dichiarare e poi non votare, è troppo facile dichiarare e poi non prendersi con la solennità di un voto, prendere una posizione. Perché tutto questo accade? Perché forse quando Biden le bacia la testa le dice anche quello che deve fare poi dopo in Italia. Questo forse sta accadendo. E allora perché noi non dobbiamo essere come altri 143 Paesi nel mondo? 143! E gli ultimi sono Spagna, Irlanda e Norvegia a riconoscere lo Stato della Palestina. Perché? Ci dovete dire perché? È inaccettabile. Cosa devono dichiarare più i governanti di Israele per farci indignare? Il Ministro degli Esteri, Israel Katz, ha detto che la Spagna è complice del genocidio del popolo ebraico. Ma cosa devono dichiarare di più per prendere finalmente una posizione? E la cosa vergognosa è che noi non dobbiamo mai avere paura di riconoscere a una comunità la possibilità di stringersi intorno a una bandiera. Non dobbiamo avere paura di farlo perché una bandiera è sempre sempre simbolo di comunità. Collega Ricciardi aspetta. E questa bandiera oggi è zippo. Colleghi, consegnate ai commessi le bandiere. Collega Ricciardi, come sente? Il microfono è spento. Quindi adesso può concludere il suo intervento non appena i colleghi avranno consegnato ai commessi le bandiere. Come sapete non è consentito in aula esporre simboli di alcun genere. Collega Ricciardi ha concluso? Ancora qualche seconda. va conclusa.